Adesso vi presento un artista e una voce che ha sedotto generazioni di signore, Nando Cazzolo. Ma hai usato la poesia per far innamorare le signore? O bastava la voce? No, io sono un professionista rigoroso, quando registro una poesia non penso di sedurre, però devo dire che inaspettatamente anche per me funziona, le donne sono meravigliose, anche per questo. Grazie, a nome di tutto il genere femminile. Adesso vogliamo ascoltare la tua voce e chiamiamo il maestro Renato Serio, grazie per essere qui con noi. Il maestro Renato Serio ha scritto la musica per accompagnare Aspetterò di Maria Luisa Spaziani. Aspetterò il futuro quando avrò novant'anni. Chi non lo fa si rassegna alla morte. Mordo il tempo, questa albicocca matura. Chi non lo fa si rassegna alla morte. Mordo il tempo, questa è la morte. Mordo il tempo, questa albicocca matura. Chi non lo fa si rassegna alla morte. Ho docile creta per il genio dello scultore. La morte è molto offesa, vedendo che non le credo. Per me il suo passaporto non è valido. Ho troppo da fare qui. Vorrà lasciarmi in pace. Ciuperei sottoterra troppo tempo prezioso. La morte l'ha inventata qualcuno che ci ama. Vuole che lavoriamo fingendoci scadenze. Ma dalla finestra si aprono praterie infinite dove i miei cavallini galoppano a briglia sciolta. Aspetterò.